Ciao a tutti e bentornati su IndieGameplay Ita. Oggi siamo su Star Citizen. Perché siamo su Star Citizen? Perché l'ho riscaricato anche grazie alla gentilezza dell'Uzio Aria che ho contattato per fargli delle domande su alcuni dubbi che avevo sul gioco. E calcolando che in passato ho fatto un video su Elite Dangerous in cui ho ricevuto diversi commenti, bellissimo, bellissimo. Nel momento in cui ho fatto un video su Star Citizen stessa cosa. Nel momento in cui ho fatto un video in cui giocavo a Elite e parlavo del confronto Star Citizen ed Elite. E lì è successo di tutto perché comunque chi mi ha detto sì è meglio uno, no è meglio l'altro, no non capisce un cazzo. Quindi alla fine ho deciso di fare un altro video in cui vi spiegherò quello che io ho capito giocando quel poco, pochissimo che ho giocato a Star Citizen. Ma diciamo che anche guardando giocare all'Uzio Aria di cui vi consiglio il canale, lui fa live prevalentemente su questo gioco in compagnia della sua org, dei suoi amici. Magari domani andrò magari a trovarli, farò un giro con loro sulle navi. Volevo spiegarvi come vedo io Star Citizen. A dire la verità io sono già al secondo video che faccio perché ho registrato il primo, ma in realtà ero partito appunto da un'altra parte, ero partito da Microtech che è una delle nuove, dei nuovi pianeti insomma aggiunti. E ho fatto un viaggio fino a qui, ho fatto un viaggio fino a Stanton, a Porto Alizar. Allora, bisogna dire una cosa, quello che dicevo anche nel video di Elite Dangerous. Elite Dangerous è un gioco un po' più bug free, nel senso che avete solo la nave, salite sulla nave, commerciate, bellissimo il sistema di atterraggio, bellissimo il sistema di fitting della nave. Insomma, sono tante belle cose, le armi, i sistemi di scudi, il fatto che comunque all'interno della nave potete riavviarvi il sistema e tutto. Sono cose bellissime che rendono Elite Dangerous un gioco tremendamente simulativo per alcuni aspetti. Il fatto che comunque andate a navigare in una galassia in scala 1 a 1 nella nostra Via Lattea, ovviamente tante cose sono generate proceduralmente, però la scala è 1 a 1 e vi trovate di fronte, qualora voleste fare un giro della galassia completo, diversi mesi di viaggio. Nonché però al tempo stesso anche di monotonia per alcuni aspetti, ad esempio l'esplorazione è molto interessante, però diciamo che è come avrebbe normalmente nello spazio, vedete un pianeta, ne vedete 100, vedete 1000 sistemi, qualcuno magari con degli scorci belli ci sono, però diciamo che vi ripetete sempre la stessa azione. Bene, di bello Elite Dangerous ha un sistema di mining veramente innovativo, veramente molto carino, i combattimenti sono fatti bene ed è appunto bug free. Elite Dangerous, qual è i pregi e i difetti di questo titolo? Io l'ho visto poco, l'ho giocato poco, l'ho acquistato 10 mesi fa ormai, ha una grande community. E quello che mi stupiva all'inizio, soprattutto guardando lo Zero Warrior, era il fatto che questi ragazzi continuavano a giocare e ridere dei bug, ma rimanere affezionati al titolo. Dopo un po' averli guardati, aver capito, aver visto anche altri video, ho finalmente capito il motivo. Io, ok, i primi tempi lo ammetto, quando vagavo, devo andare al pad 02, però prima volevo farvi vedere una cosa, quando io vagavo dopo le patch che avevo visto, le nuove patch rilasciate, e vedevo i negozietti che consentivano di comprare, come ad esempio questo qui, comprare le bottiglie d'acqua, il panino, il fatto di mangiarle subito, sedersi a mangiare alla discoteca, all'evento che partiva la sera, dicevo, ma cavoli, il gioco ha mille bug, perché non risolvono quelli? E poi ho capito, i ragazzi che sviluppano questo titolo, indipendentemente dai soldi guadagnati, che comunque è un gioco che voi acquistate, è un finanziamento che date a questi ragazzi, è un crowdfunding, sono estremamente appassionati di quello che stanno facendo, e stanno veramente cercando di dare il massimo del realismo a questo titolo. Che altro dire? Sto sbagliando totalmente ponte, perché devo andare al ponte 4, e il ponte 4 è di là. Allora, quello che, altro 5 e 8, no, mi sembra che bisogna andare da un'altra parte, eccolo qua, il C2 di qui. Il gioco è soprattutto dedicato a quelle persone che, come me, sono assolutamente malate di varie cose, tipo sportelli che si aprono, navi comandabili, computer di bordo cliccabili, i carrelli estensibili, le ali che si riaprono della nave, e il fatto comunque di atterrare su un pianeta a scala 1 a 1, rilasciare il lander, insomma, vagare col veicolo, ritrovarsi di fronte a spettacoli del genere. In tempo reale. Una stazione, piuttosto che una città, guardare dalla cima di un grattacielo il pianeta, guardare la città. Star Citizen, da quello che ho capito, è passione. Bug o non bug? Infatti, gli appassionati stanno lì e aspettano. Ovviamente, dovete valutare una cosa, e qua sarò molto breve. È vero, Elite Dangerous, ora, da questo video sembra che io sia per Star Citizen, invece io cerco di essere super partners, però cerco di equilibrare un po' quanto ho detto nell'altro video. Abbiamo detto, Elite Dangerous rilascerà l'anno prossimo una patch, una nuova espansione dove si camminerà. Però ricordiamo una cosa, quanto c'è voluto per quella patch? 3 anni? Al tempo stesso si critica Star Citizen, troppo lenti, troppo lenti, troppo lenti. È vero, assolutamente. Ma Elite Dangerous è uguale. C'è un sacco da aspettare per ogni cosa innovativa. Ho ripreso in mano il gioco dopo diversi mesi, ho visto che ne hanno aggiunte di cose. Avevo preso forse in mano la 3.7, siamo in 3.11, diciamo che di cose ne sono state aggiunte. Ovvio, qua imparerete ad avere delle accortezze, quindi a imparare magari a stare lontano mentre i meccanismi sono in azione, ad esempio. E una cosa veramente molto molto bella è questa, che ok, Elite Dangerous è bellissimo col VR, qualcosa di impagabile. Ma anche questo non è assolutamente male. Il fatto comunque di accendere tutto, di vedere i livelli di carburante che avete, il fatto di gestire la richiesta di attacco, due tipi di carburante, si decolla. Il fatto che comunque si chieda, si possa addirittura chiedere l'attacco, la partenza, l'apertura dell'hangar. Il fatto che si gestiscano singolarmente i motori. Vedete che potete accendere e spegnere i motori, questo l'avevamo già visto. Ok, vedete ora stiamo partendo e ce ne andiamo. E avete, è vero, un solo sistema solare, ma io non capisco quella gente che pretende di averne 100. E ora ne avevamo permessi 100, ma ragazzi, ma scusatemi, adesso, qua abbiamo un sistema solare. È vero. Ma quanti pianeti ci sono? Adesso io purtroppo, mi sa che dal dentro della nave non riesco a farvelo vedere. Clear route, vediamo se riesco a farlo vedere da qui, ma mi sa che ogni tanto la mappa si imballa. E questo è uno dei problemini, ecco, adesso va. Poi, ovvio, dite, no, ha buggato, vedi tutto così. Va bene, capita, è normale. Allora, vedete qua, Crusader, dove siamo noi, ci sono le lune, ci sono la stazione dove siamo noi. Possiamo andare in qualsiasi punto. Poi, ne volete 100 così, ci vorranno 50 anni per svilupparli bene tutti come si deve, dei sistemi solari così dettagliati. Poi, ovvio che magari un pianeta può essere vuoto, è vero, ma guardiamo anche un No Man's Sky, il pianeta è vuoto. Sono vuoti. Se guardiamo Elite Dangerous, potete atterrare sui pianeti? No, solo sulle lune, senza atmosfera. Cosa sono? Vuote. Alla fine, ragazzi, io non so che cosa si stia andando a cercare. Ognuno difende il suo gioco bene, ma non bisogna comunque esagerare in quello che si dice, quello che si fa nei confronti delle community di altri titoli. Questa è una stazione che magari qualcuno di voi, giocando, potrà identificare come casa, sentirsi a casa, atterrare qui, portarci gli amici. E' vero, aggiungere una discoteca in un gioco del genere a cosa serve? Non lo so, cioè uno che ama magari lo spazio, ama vivere una seconda vita nello spazio, che probabilmente non vivrà mai, perché non ritrovarsi con gli amici lì? Ovvio, è vero, lo fai una volta, neanche lo fai tutte le sere. Però, anche il fatto che comunque vi trovate, che so, atterrate, vedete magari il sole che passa dietro il pianeta, il gigante grassoso qui, oppure vi date appuntamento con gli amici. Ci sto arrivando, sì, dove sei? Sono vicino al ristorante lì, oppure devo comprare quell'oggetto, quell'oggetto è dall'altra parte del sistema, quindi boom, vai, viaggio, ho bisogno del carburante, vado, mi fermo, scendo. Cioè, il gioco offre, questo soprattutto, un'esperienza di vita fantascientifica che pochi altri riescono. Poi, se siete appassionati di, volete farvi la vostra stazione spaziale, volete commerciare, volete diventare dei magnatiter, fate X4 Foundation. Alla fine, il discorso è quello. Ogni gioco rispetta delle aspettative diverse, risponde a delle aspettative diverse. Ora, ritiro fuori il carello perché voglio riatterrare da dove sono partito. Ci sono mille tasti in sto gioco, tra l'altro, e non riesco neanche a... adesso, ok, devo tornare in questa modalità qua. Cerchiamo di atterrare. Che poi è bellissimo perché adesso magari mi ricapita di nuovo, però prima, adesso mi hanno assegnato un pad. E pensate, se non prendete un pad e atterrate così, prendetela molta. Potete finire in prigione, potete evadere dalla prigione. Di cose da fare, ce ne sono veramente tante, di situazioni ce ne sono tante. Ovvio, vi piace la fantascienza, giocate a Elite o a questo in base a quello che vi serve. E questo gioco ha problemi, certo, ne risolvono alcuni, ne creano altri, ma è normale in ogni titolo. E adesso vediamo se riesco a farlo come di comando. Il problema è che qua non vedo dove devo atterrare, quindi dovrei già essere giusto così. Scendiamo. Vediamo se ce la faccio. Ok. Dovrei essere atterrato. Power off. Più o meno. Più o meno. Devo migliorare l'atterraggio, eh. Non sono minimamente atterrato. Quello io ne sono consapevole. La cosa bella che hanno aggiunto poi con le varie patch, che non c'erano mi pare quando giocavo io, quando avevo iniziato quel poco che ho giocato, è la temperatura. Quindi fame, sete e abbiamo anche la temperatura. Quindi adesso vediamo che cavolo ho combinato. Ah, ok. Avevo proprio parcheggiato male io, altro che bug, vabbè, insomma, non... Ehm... Poi vabbè, vi farò vedere quello che è successo adesso, la volta scorsa. Ok, direi che il parcheggio è stato... Sì, vabbè, ho fatto veramente un... Eh, beh, che dici? Poi avete modo di vedere questa stazione, ci stiamo camminando all'esterno, possiamo toglierci il casco, ovviamente moriremo istantaneamente. Avete la fame, la sete, dovete fare attenzione a quello, dovete avere un vostro inventario, insomma, uno zaino, qualcosa. Eh, di cose da fare, veramente ce ne sono già tante adesso, per com'è. Il mining, le taglie, il pvp contro altri giocatori, è un gioco in continuo di venire, quello è... L'altra cosa di cui volevo parlarvi, e tra l'altro è una delle più importanti ma me ne stavo dimenticando, è il fatto che io probabilmente, non ricordo se l'ho detto anche in video, ma, erroneamente, io credevo che le navi fossero acquistabili solo a soldi, ed uno dei motivi per cui io sono stato lontano da Star Citizen al momento, perché ho detto non voglio investire in soldi, questo è il terminale per pagarle molte. In realtà non è così. Potete noleggiare le navi per tre giorni, vi costa un... niente, insomma, una cifra già importante per alcune navi, però finisce lì. Ma, al tempo stesso, potete anche acquistare le navi definitivamente per voi, per tenervele. Non tutte, ovviamente le navi più costose nel gioco non si trovano, ma tante, ma veramente tante, si trovano a sbagliate i milioni, ma potete già iniziare ad avere uno scopo. E, a quanto mi ha detto lo zio Aria, gli sviluppatori vogliono dare una sorta di persistenza adesso al mondo, quindi cercheranno di non resettare più il database personale, resetteranno magari il mondo, viperanno il mondo, ma non quello che possedete, soldi e navi, quindi dovreste poter già iniziare a nerdare, passatemi in termini su questo titolo, se il gioco vi piace, cercando di ottenere le varie navi che vi piacciono. Un'altra cosa che mi ha affascinato molto, qua abbiamo la raffineria, ho visto inquadrata una nave in cui nella stiva c'era proprio tutto il meccanismo di raffinazione, e si vedeva, cioè uno sembrava un monito, una scatola, comunque, e fa, no, questa è la raffineria che vi consente di raffinare già direttamente in viaggio, quindi navi, abbiamo visto lo sputto di nave che ho io, che è su lì, ce ne sono lì molto più grosse, quindi all'interno avete anche la prigione per i prigionieri, avete il deposito per le varie cose che potete trasportare, ci sono un'infinità di armi, armature, cioè di cose da fare ce ne sono, e come vedete non potete confrontarlo con Elite Dangerous, Elite Dangerous è un gioco di esplorazione spaziale, esplorazione, combattimento, commercio, fine, non camminate, non sparate sulle stazioni, avete, ok, i pirati, avete mille cose da fare, potete giocare da soli, in gruppo, ci sono delle missioni comunitarie, è vero, ma finisce lì, è un gioco diverso, voglio arrivare al centro della galassia, fare il giro della galassia in scala 1 a 1, come se lo faceste davvero con una tecnologia che ancora non esiste, vabbè, atterrate, vi sembra di guidare una vera nave, di fare scuola guida su una nave, potete prendere il vostro amico, insegnargli e farvi vedere quanto siete fighi, quello lo potete fare su Elite Dangerous, perché è veramente una simulazione che io trovo ben fatta, poi ovvio, uno non potete dire Star Citizen è una truffa, oppure Elite Dangerous fa cagare, meglio Star Citizen, come chi mi ha scritto sotto ogni video che facevo di Yvonline, gioca Star Citizen e Yv2.0, che non è un aggiornamento del cazzo, che non c'entra niente, adesso poi è difficile, anche io sono sempre abbastanza apposato, poi di fronte a certi messaggi, soprattutto quando mi vengono ripetuti numerose volte, mi nervosisco, però scusatemi, ma ecco, questo è il mio parere, adesso sto vagando un po' a vuoto, perché ormai ho finito di parlare, vabbè, sono un cane a parcheggiare, l'abbiamo visto, avete visto anche cosa ho combinato nell'altro video, che poi pubblico questo, che mi piace di più, ho voluto curare anche questo video, appunto non farlo ad cazzo, ma è per questo che l'ho deciso di riregistrare, fatemi sapere cosa ne pensate, datemi il vostro parere, e alla prossima, se avete altri video, suggerimenti, insomma, scrivete qua sotto, ciao ciao!